Ciao! Come stai? Come sei un po' in ansia? Ah, devi partecipare ad una fiera? Ah, ok. Beh, allora goditi questo momento e rilassati. Va bene? Ok? Perfetto. Dimmi di cosa hai bisogno. Ah, ok. Fate la coppia, quindi Joker and Harley Quinn. Perfetto. Hai già intessato il costume, vedo. È bellissimo. E dimmi un po'. È un original, vero? Ah, sì? Sì, sì. Un po' ispirato alla versione originale e a quella attuale, moderna. È bellissimo. Complimenti. Quindi io direi di fare un make-up adatto. Sì. E iniziamo. Ti danno vostri rilenti a contatto. Guarda, faccio io. Tutto l'occorrente sia make-up che per quanto riguarda la lentina. Vedo che sei già bionda, quindi non usi le parrucche. Meglio, così non morirai di caldo. Allora, ti metto un po' di queste goccine. Sono delle semplicissime lacrime artificiali che secondo me ti aiuteranno molto. Ok? Guarda su. Perfetto. Perfetto. Meglio. Bene. Ti hai di cominciare col trucco, allora. Allora, dato che fa caldo e dovrai stare truccata per molto tempo, utilizzare un primer. Tu lo usi? No. Beh, anche io non lo uso tutti i giorni, ma per queste situazioni è necessario. Metto questo, di Essence. È trasparente. Ok? Ok? Perfetto. Poco a poco. Come? Vuoi che ti faccia un po' le sopracciglia? Sì, certo. Faccia subito. Ma direi che non c'è molto da fare. Ok. Dopo magari te le riempio anche un po'. Posso una pizzetta ovviamente. Allora. Allora. Giusto qualche belettino per aggiustare la forma. Ok. Passiamo al trucco. Allora. Dato che Harley Quinn ha praticamente sempre il viso bianco. Va deciso di fare una via di mezzo per te. Io non utilizzare proprio il bianco perché ho visto che sei un po' abbronzata perché diventeresti completamente grigia. Ma utilizzo un fondotinta molto chiaro. Uso questo che è di Primark. Ed è ottimo per il cosplay perché è molto coprente. Ok. Allora dimmi perché sei così agitata. Perché parteciperete a una gara. Ah. Capisco. È la prima volta. Sì. Come coppia è la prima volta. Ah. Ok. Beh. Stati tranquilli. Siete preparati. E allora? Non preoccuparti. Allora. Allora. Andiamo. Ok. Usa una spugnetta. Mendo un po' di fondotinta. Ok. Un po' di fondotinta. 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 ok va bene adesso correggerò le occhiaie ma non è necessario correggerle in un modo esagerato perché intanto il trucco finirà fin qua sotto quindi allora un po' allora uso questo qui e poi come cipria userò questa ok allora ti metto questo correttore che appunto è medium coverage della stessa tonalità del fondo tinta ma in questa fiera dove andrete a preve è una fiera dedicata al cosplay oppure in generale è una fiera del fumetto del cinema generale quindi c'è il padiglione cosplay poi potete girare un po' eh sì quelle sono le mie preferite anche se sicuramente quelle per i cosplayer sono un po' più attrezzate ecco per appunto i cosplayer guarda su in questo modo ok uso sempre la spugnettina e per i cosplayer per i cosplayer per i cosplayer perfetto le lentine come vanno? non ti danno problemi perfetto adesso ti fisso tutto con la cifra poi facciamo un po' di contouring per completare la base che passiamo agli occhi che è la parte fondamentale ovviamente poi ne parleremo bene allora come cipria uso questa che è la mia preferita te la consiglio di Nabla è la Close Up Baking Setting Powder è traslucida ma non è un traslucido bianco 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 quindi si adatta a tutti gli incarnati dei più chiari più scuri non lascia aloni e mi piace tanto è la mia preferita non che è l'unica che ho a parte una gialla però ovviamente quella gialla che è sempre in polvere libera non è adatta all'incarnato di adesso io questa la uso quando devo fare delle coperture di sopracciglia oppure quando ho degli occhiai molto pesanti da coprire quindi adesso uso questa qui il personaggio di Harley Quinn come l'hai conosciuto con l'ultimo film della DC oppure un personaggio che già conoscevi già lo conoscevi? sì anch'io è cambiato molto con il nuovo film che a me sinceramente non è piaciuto tanto ah per quello ho fatto questa versione un po' un mix moderno cioè oggi e prima del personaggio sono molto molto contenta che a me siamo nello stesso modo ecco nonostante sicuramente i costumi dei personaggi siano fatti molto bene allora prendiamo un becchiello io uso questo qua bello grande con i glitter chiedi pure gli occhi io uso un becchiello ok ottimo adesso facciamo un po' di contouring io uso questa palette che è una palette per il contouring allora, fatto così abbiamo polveri opache che sono queste queste due questo è un illuminante molto tenue che è probabilmente quello che voglio utilizzare sui tè questo è un illuminante chiaro ma bello intenso questo invece è un illuminante piuttosto scuro quindi secondo me non va bene e abbiamo qui tutte le polveri opache per il contouring allora, non voglio fare un contouring eccessivo sui tè perciò utilizzo la tela più chiara e fredda perchè non ci serve un incarnato appruzzato quindi è così ok 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 perfetto adesso prendo l'illuminante che ti dicevo prima questo qua che è un illuminante tele io te lo metto un po' qua e sul nasino hai ragione stavo dimenticando le sopracciglia grazie per avermelo ricordato allora per le sopracciglia dato che sei bionda uso un colore chiaro questo è il mio prodotto preferito perché dura tantissimo quindi stai tranquilla che le sopracciglia ce le avrai perfette per tutta la giornata allora giro di un po' così è il cabrao della benefit 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 nel colore uno appunto più chiaro che è fatto così su questa punta tipo missile che si gira e c'è il pennellino io però questo lo utilizzo solo quando viaggio tipo l'ultima volta che sono partita mi sono dimenticata il pennello per le sopracciglia e ho usato questo fortunatamente c'era su di te invece adesso uso un pennellino un po' più professional questo qui quindi pettiniamo un po' più il pennellino un po' più il pennellino un po' più allora tutto il pennellino un po' più perfetto adesso gli occhi finalmente dato che il tuo costume è rosso e nero ovviamente io pensavo di fare i tuoi occhi uno rosso e uno nero però la mia idea era questa ti faccio nero rosso sopra nero sulla palpebra rosso sulla palpebra capito? ok certo ti piace? ti piace? sono contenta allora serviranno un po' di cose principalmente 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 io utilizzerò il mio ombre ombre rosso rosso che è di neve cosmetrics perfetto perfetto lo faccio vedere è questo qui eccolo è un rosso rosso perfetto adesso come nero come nero utilizzerò il mio nero preferito che è di questo paletto qui perché è bello il denso allora prima direi di usare il rosso insieme al rosso allora prendiamo un pennettino questo qui si purtroppo i vicini fanno un po' di casino mi dispiace sperano non ti disturbi ti senti un po' meglio con l'ansia ok sono sicura che andrai benissimo sicuramente il costume per il costume ti faranno un sacco di complimenti comunque questo rosso è red carpet mi ricordo se l'ho detto adesso adesso te lo metto qui si no tiene pure gli occhi aperti adesso guarda me e scendiamo e scendiamo fino a giù fino a qua più o meno anche un po' sotto quindi ok mentre mentre l'altro occhio chiudi e te lo metto sotto l'occhio così adesso completiamo col nero facciamolo il contrario da questa paletta che è la Naked 2 di Urban Decay prendi questo colore qua che è il nero appunto che si chiama Blackout adesso chiudi quest'occhio comunque chiudi gli occhi che ti metto il nero su tutta la palpebra ok 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 e adesso sull'altro occhio te lo faccio scendere fino a qua devi pure aperto grazie e dai sono soddisfatta manca ancora un piccolo particolare cosa ne manca aperto il mascara ovviamente è la matita io uso una matita nera molto morbida aspetta che ti gira un attimo da questa parte ok perché voglio farti un effetto sbavato dentro l'occhio e anche un po' qua anche scende verso il basso su tutti i tuoi occhi ok quindi chiudi guarda su guarda su adesso che ti ho dato un po' dentro guarda su adesso che ti ho dato un po' dentro perfetto passiamo al mascara allora uso questo mascara io io non metterei le ciglia finte perché è abbastanza drammatico come look cioè nel senso è già abbastanza drammatico come serve che sia hai ragione aspetta che ti disegno il cuorecino ok ok mascara guarda su senza chiudere gli occhi perfetto zizca 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 zica zizca 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 Perfetto Gli occhi sono appostissimi Adesso Le labbra Io pensavo di fare così Di mettere un bel rossetto rosso In modo abbastanza preciso E poi di utilizzare un blusino labbra rosso Per fare un effetto un po' sbavato Un po' impreciso Ma in modo tale che la tua base non si sposti Perché usiamo un bel rossetto resistente Va bene? Ok Come rossetto uso Lime Matte Lip Fluid Di Pupa Il colore Ginser 52 Che è un rosso classico Intenso che secondo me sta bene Proprio su tutti i tipi di carnagione Quindi fai così Un po' tipo Stupida Ok 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 E adesso L'osso della labbra Io uso quello di Questa Grazie a tutti their Stupida Ciao ! però spavolpa perfetto, sei fantastica io l'unica cosa giusto per aggiungere metterai un po' di sfrifissante in modo tale da curare il trucco sicuramente fino a fine giornata aspetta che ti copro i capelli che sono già conciati perfetto allora cara ti auguro buona fortuna mi raccomando vinci questa cara perché te lo meriti ci vediamo, ciao